vi sono strade frettolose che corrono rapide e veloci altre si snordano lente lungo le colline del lago come volervi invitare a guardarvi attorno ad ammirare i paesaggi ci sono vie tranquille come i villaggi che attraversano dove il tempo pare essersi fermato altre si nuose come serpenti e altrettanto pericolose se solo osate distrarvi un attimo ci sono passaggi infine che non vedono mai la luce del sole non è facile trovarli ma non per un problema di segnaletica come accade per le strade di superficie non esistono frecce ad indicarli e potete mettervi alla loro ricerca solo seguendo le labili tracce di una leggenda i cunicoli collegano luoghi molto distanti tra loro e loro tracciato imprevedibile attraversano montagne e corsi d'acqua si immergono su una riva del lago per emergere dall'altra parte in un'altra fortezza grotta sulla sponda opposta nel loro insieme costituiscono una rete fittissima nel sottosuolo la cui mappa è impossibile ricostruire lì sotto l'orientamento si perde il tempo si ferma e la mente vacilla alcuni sussurrano che molti cunicoli si collegherebbero ad una rete di passaggi molto più antica scavata prima che la nostra specie apparisse sul pianeta gallerie che porterebbero a luoghi segreti difesi da trabocchetti e parole d'ordine stabilite all'alba del mondo in lingue non umane luoghi nel ventre della terra in cui sarebbero custoditi tesori inimmaginabili e oggetti capaci di unare al possessore virtù forza e ricchezza occorre solo trovare il coraggio di infilarsi nelle viscere della terra per cercare grazie a tutti grazie a tutti